Siamo qui oggi per parlare del melt. Sono Rino Monti con Atlas Concor. Melt è una linea che è stato produttosto e sviluppato nel nostro lab in Italia. La superficie del melt è caratterizzata da una textura soft e semplice che si tratta da un luogo fluido che ricorda l'espai di resina fresca. La semplice della textura è seductiva per l'occhio e per il tocco. Le cinque colori del melt sono spiegati in due colori e tre colori scuri. Un finito presso che crea l'atmosfera dove l'eleganza diventa un comfort. Grazie a tutti. Grazie a tutti.